Tra due media, il problema è il rapporto tra un sistema che riflette la vita quotidiana e social e un media che affannosamente insegna. Questa è la mediazione che funziona. A materia si è consumata questa incompatibilità. L'altro tema, questo è il famoso pianista, il passeggero che si è messo a sola anche a Marte, se c'è il pianoforte, se ne sono già venuto, c'è il suo. Qual è il messaggio che ci viene da qui? Che è fondamentale, perché questo è l'altro. E' l'individualismo, la competizione e l'impratendenza della rete. Questo ragazzotto che in un'attesa ad aldegua del treno per Milano, ritardo di un'ora e tre quarti, materia che qui non è rara, ma non è ricavano, certo un vesodiano potrebbe produrre tonnellate di musicisti, perché se ogni inizia è ritardo, perché avrebbero scioperto, rimanaggia tutti i giorni. Si è messo a sola anche. Ma il punto qual è? Non che si è messo a sola anche, ma che come oggi tutto quello che accade è stato ripreso. E' l'altro punto qual è? Che è stato ripreso da un passato da un'ampegna ed è stato visto da un impresario all'ora. Questo è la novità. Se non decifriamo questo punto, noi non capiamo a chi siamo parlando. I nostri lettori sono, i nostri utenti, scusate, sono come questo pianista che ha una inconsapevole e inconscia ambizione di rivolgersi a un mondo e noi stiamo mediando con, come dice Lionel Barber, il direttore del Financiatano, con dei lettori che ormai ne sanno e ammissono ad avere cose più di noi. E di? Che rischia di chiudere la casaggia. Perché noi abbiamo speculato per un secolo e mezzo sul fatto che loro credevano che noi ne sapessimo più di loro. Mediamente non è stato quasi mai nero, ma non ci hanno creduto per un secolo e mezzo e noi ci abbiamo costruito diciamo così, ieri carrieri. Questo gioco è finito.